La Regione Abruzzo parte con l'operazione ripopolamento, partendo da un dato drammatico, quello dello spopolamento soprattutto nelle aree interne. La Regione corre di più rispetto alla media nazionale. 173 comuni coinvolti interessati negli ultimi 5 anni da un calo demografico che segna meno 8,35%, 20 sono in provincia di Teramo, 24 a Pescara, 74 in provincia dell'Aquila, 55 a Chieti. Il comune più spopolato è Villa Santa Lucia, ma anche Fontecchio nell'Aquilano e nelle prime posizioni. Le misure messe in campo dalla Regione sono diverse. L'assegno di natalità è corrisposto in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato a decorrere dal 1 gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino o per ogni minore adottato o in affido. Si arriva sino ai 2.500 euro annui in diverse modalità, anche rivolte a chi ha figli con disabilità o famiglie con un solo genitore. Ma c'è di più anche il bando che assegna incentivi ai nuovi residenti, che è rivolto ai nuclei familiari che entro 90 giorni dall'accoglimento della domanda trasferiscono la residenza di almeno un componente del nucleo originario in un comune di montagna della Regione e la mantengono per almeno 5 anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza del contributo. Anche qui si prevedono 2.500 euro annui che possono essere raddoppiati nel caso in cui il nucleo familiare avviene, il piccolo comune montano di residenza, un'attività imprenditoriale anche attraverso il recupero di beni mobili del patrimonio storico-artistico. La copertura finanziaria c'è e già c'è stata una prima integrazione. Abbiamo misurato i dati e visto come l'Abruzzo ha un indice di calo demografico doppio rispetto a quello italiano e nelle aree interne questo indice è addirittura quadruplo. I comuni che abbiamo identificato con questa legge, entrata in vigore il giorno di Natale, è un indice che supera l'8% di spopolamento, quindi è un indice altissimo, elevatissimo, che sta di fatto spegnendo intere comunità, tanti borghi. Nel mio campo, anche come assessore alla famiglia, diamo la possibilità di ricevere per un anno la possibilità di 2.500 euro per i primi tre anni a tutti i bambini, a tutte le famiglie che hanno la possibilità di avere un figlio e una residenza per 5 anni consecutivi presso questi piccoli comuni o anche un figlio in adozione o in affido.